San Bartolomeo Il nome originario di Bartolomeo era Natanaele, originario di Cana di Galilea, fu scelto a far parte dei dodici apostoli. Dopo la Pentecoste si recò a predicare in Mesopotamia, Licaonia, Frigia e infine in Armenia. In Armenia convertì il re Polimio e subì il martirio, scuogliato vivo e decapitato secondo la legge persiana. Le sue reliquie sono venerate a Roma presso la chiesa a lui dedicata sull'isola tiberina. Il suo capo è venerato a Francoforte sul meno. Per aver liberato molti ossessi invasati è invocato in caso di malattie di nervi, convulsioni ed ernia. Protettore di Benevento, Francoforte sul meno, Ustica, Patti e Lipari e patrono di conciatori e commercianti di pelli, sarti e macellai.